Stava per entrare in chiesa per partecipare al funerale di un amico ecoetaneo, ma un malore fatale ha colpito l'84enne Giuseppe Amadio, storico funzionario dell'anagrafe di Gazzo. Per lui gli operatori del 118 hanno provato vari tentativi di rianimazione, ma non è servito. L'anziano è deceduto appena fuori dalla chiesa della frazione di Grossa, poco prima della funzione, fissata per le 15. Amadio era una vera istituzione in paese ed era vedovo da pochi mesi. Grazie a tutti.